Desidero avvertirvi, scrive Santa Teresa Davila, che per avanzare di molto nel cammino spirituale e salire alle mansioni a cui bramiamo giungere, l'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare, per cui le vostre preferenze devono essere soltanto in quelle cose che più eccitano all'amore. Nella superficialità della vita odierna, caratterizzata dalla fretta e dallo stress, in presenza di una persona triste, secondo alcuni è più facile dirgli di prendersi una pasticca per tirarsi su di morale, di comprare qualche idiozia per distrarsi, di andare dallo psicologo. Questo è il tipico comportamento di un'umanità immatura, bestiale, che considera le persone come se fossero dei denti cariati di cui sbarazzarsi il prima possibile, o alla stregua di oggetti che una volta divenuti difettosi vanno subito sostituiti, come i pezzi di ricambio di un'automobile. Da qui assistiamo a coppie che si lasciano per una banale inezia, famiglie distrutte, amicizie rovinate, rapporti sempre più improntati sulla diffidenza e la paura. Ovviamente la divisione, l'odio e la violenza sono gli strumenti di cui il male si è da sempre alimentato. In pochi si rendono conto, forse a causa dell'aridità e del cinismo che oggi condizionano i molti, quanto costi così poco donare un po' di amore, di gentilezza e di umanità, soprattutto alle persone che soffrono, di come l'amore abbia il potere di guarire qualsiasi sofferenza dell'anima, anche nel caso di malesseri fisici. In fondo proprio Ippocrate diceva che la malattia è un difetto dell'anima e non è difficile constatare come le persone felici che si sentono amate hanno meno probabilità di ammalarsi rispetto alle persone sole e malinconiche. Lo vediamo ad esempio negli anziani abbandonati negli ospizi. Amare e prendersi cura reciprocamente di chi soffre, specie delle persone che abbiamo accanto, dovrebbe essere la base di un mondo civile e di un'umanità matura, dove io mi prendo cura di te e tu ti prendi cura di me, ciascuno a modo suo e secondo le proprie capacità. Non vale nulla chi non giova a nessuno, ha scritto Pascal. Non vi è dubbio che la mancanza di amore sia la principale causa dei disastri, delle sofferenze e delle sciagure a cui quotidianamente assistiamo. Tutto ciò avviene perché oggi troppe persone accecate dall'ego e dal proprio orgoglio sono incapaci di percepire se stesse in quanto umanità. Ma cosa significa percepirsi in quanto umanità? Significa in primo luogo comprendere che siamo tutti imperfetti, limitati e dipendenti da condizioni esterne. In fondo anche il nostro cuore continua a battere di certo non perché lo decidiamo noi, ma soprattutto vuol dire essere consapevoli del destino e della meta comune verso cui ognuno è diretto, ossia che tutte le creature presenti sulla terra sono soggette al ciclo della nascita, della vecchiaia, della malattia e della morte. Una volta mi capitò di sentire un anziano signore di evidente origine napoletana che seduto ad un bar parlando con un amico della disonestà di alcuni politicanti, banchieri o uomini di potere esclamò d'un tratto, ma sti strunz usann che hanno a morì? Come sempre la saggezza popolare parla più di mille discorsi o sentenze. In fondo non è più saggio essere più buoni, più altruisti, più gentili verso tutti, proprio perché tutti sappiamo, a differenza degli animali che lo ignorano, che un giorno dovremo tutti morire? Alcuni, uomini sottosviluppati moralmente, purtroppo proprio a causa della paura della morte diventano più egoisti, attaccati al denaro, indifferenti verso tutti e tutto. Ma attaccarsi al potere per paura della morte è come sfuggire davanti alla propria ombra, e agire come il vecchio Strugis del Christmas Carol di Charles Dickens, uomo potente e ricchissimo, ma solo, abbandonato da tutti e vittima dei propri fantasmi. La malattia di accumulare denaro, oggetti inutili, proprio per sfuggire al pensiero dei propri limiti e della propria finitezza, rende l'uomo odierno un egoista, un ipocondriaco, un essere infelice, tendenzialmente un dannato sulla terra. A riguardo dell'atteggiamento che dovremmo tenere in ogni momento della nostra vita, mi piace rammentare una scena estremamente significativa del film Titanic di James Cameron, quella dei musicisti che suonano tranquillamente, mentre attorno a loro è presente l'inferno. La gente corre, isterica, nel panico, mentre la nave affonda. Tutti strepitano e urlano, mentre quegli uomini sorridono e suonano. Perfetta immagine degli artisti e di quegli uomini che sanno attendere la fine con grazia, in armonia ed eleganza con ciò che sono stati per tutta la vita. Questo approccio, se sapessimo applicarlo in ogni condizione dell'esistenza, anche nel caso peggiore, ne ricaveremmo tutti sicuramente un gran beneficio. Strepitare, lamentarsi e fare chiasso è il tipico approccio dell'uomo bambino, di un essere immaturo e infantile. Vivere sereni, con amore, soprattutto nelle tragedie, è ciò che rende l'uomo degno di definirsi ancora tale, suscitando orgoglio e dignità alla nostra specie umana. Rammentando che tutti dobbiamo morire prima o poi, amiamoci e viviamo sereni, perché come scrive Vittor Ugone e i miserabili, l'amore è ridurre l'universo a una sola creatura, sino a Dio.